dato che sei sdraiato sul divano un possibilitato a muovete per tutto er panettone er torone che te sei magnato e dato che oggi è santo stefano te becchi una bella lezioncina veloce su sta pittura del beato angelico che raffigura il martirio appunto de santo stefano tanto per cominciare non è che beato è il nome angelico è il cognome anzi nessuno desti due sono nomi veri e propri che il tipo si chiamava guido di pietro poi si fece frate e si cambiò nome giovanni da fiesole ma tutti lo conoscono come beato che fu effettivamente fatto beato ma anche perché era un pittore tutto delicato e religioso e angelico può stesso motivo e di fatti si vede sta scenetta che raffigura una lapidazione dove al povero stefano vanno fuori a sassate tutto si sorge in maniera comunque elegante quasi maestosa e ogni personaggio fa quello che deve fa come da copione so due parti in sequenza na prima vedi stefano che scappa e o rincorreno e na seconda o stanno alla pità fuori da città e come un fumetto e il divisorio tra scena 1 e scena 2 e il pittore da creato con un muro che popo un bel muro fatto bene in prospettiva in pratica il beato angelico te vuole sempre insegnare le storie di santi e da bibbia in modo chiaro e per tua edificazione spirituale come se faceva nel medioevo però è pure un pittore moderno aggiornato sulle scoperte del rinascimento e quindi fa come un mix te dice a storiella bella bella come una miniatura ci mette due spruzzi d'oro e pieghette belle stirate al limite ripete pure i personaggi si serve a storia ma ti fa tutti con l'anatomia precisa scientifica che sembrano veri e ti ambienta il tutto 30 un mondo prospettico e matematico perché tutto matematica e natura e arberi e gente e santi rientrano nel gran piano da provvidenza divina come dici che voi un arca serzer dici che te senti pure te un po' come santo stefano con sasso suo stomaco ma vedi da nate ne va